Il centro città di Ancona si prepara all'imminente G7 Salute e ad accogliere migliaia di ingressi. L'inizio della settimana che anticipa il Summit e che si appresta anche ad ospitare i 54 eventi dell'extra G7 è un cantiere aperto, grazie anche ai fondi del G7. In sala trucco ci sono anche gli archi deportici di Piazza Cavour, oggetto di manutenzione ordinaria di natura transitoria e temporanea, limitata alle funzioni di decoro urbano, iniziati inoltre i lavori alla Rupen via 29 Settembre. Poi ci saranno tutta un'altra serie di interventi fino a finire con anche il Monumento ai Caduti proprio per cercare di dare decoro a questa città che per troppi anni è stata un po' abbandonata e i graffiti ne sono uno degli emblemi più visibili purtroppo. Il quartier generale del G7 Salute sarà la Moleman Vitelliana. Mentre dentro si stanno svuotando le sale per motivi di sicurezza e per preparare una nuova e importante mostra, fuori gli operai sono impegnati nella stesura dell'asfalto. Anche altri sono i lavori in corso per la sistemazione e l'appellimento. Dalla zona di Porta Pia fino anche al Tempietto, alla zona della corte interna della Mole, sono state sistemate tutte le parti che sono chiaramente quelle più visibili. È chiaro, sappiamo che ci sono tanti altri interventi da fare in questa città, ma l'importante era iniziare. Per chi arriverà ad Ancona dal 3 al 13 ottobre, l'assessore si augura che a rimanere impresse saranno l'accoglienza di operatori e cittadini e la bellezza dei luoghi. Tutto questo servirà anche per la promozione turistica della nostra città.